Parliamo di imprenditoria, in questo caso al femminile, con Luigina Barbuglio che fa parte di Confapi Donne ma che è stata eletta nella giunta nazionale impresa gruppo donne imprenditrici. Insomma un riconoscimento importante da un punto di vista nazionale. Ben ritrovata Luigina Barbuglio. Facciamo anche il punto dell'imprenditoria femminile e soprattutto nel nostro territorio. Certo, allora lo scorso 29 febbraio sono entrata in giunta nazionale di Confapi Donne quindi è un riconoscimento importante per il gruppo di Confapi Donne di Venezia perché solo in tre anni è riuscito ad entrare nel tavolo di lavoro della giunta nazionale. Ecco a Roma c'è stato anche un incontro importante in questo senso dove avete fatto anche un po' immagino il foco della situazione. Certo, erano invitate tutte le territoriali nazionali di Confapi Donne naturalmente è emerso che l'imprenditoria femminile risulta al 22% dell'impresa registrata in Italia su un dato del 32% a livello europeo. Quindi è da lavorare molto su questo. Sì, tanto. Però questo riconoscimento è dato anche in tre anni di attività della Confapi Donne e di Venezia abbiamo promosso tanto l'imprenditoria femminile sia con eventi che con programmi. Ecco, noi in occasione dell'8 di marzo abbiamo fatto un po' il punto della situazione anche citando le analisi che arrivano dalle varie associazioni di categoria ed è emerso come nonostante ci siano delle realtà importanti in crescita il mondo dell'imprenditoria femminile rispetto anche a quella maschile ancora purtroppo segna delle problematiche, delle difficoltà. Vuoi perché chiaramente insomma le donne hanno anche altre responsabilità di vita rispetto magari all'uomo, però c'è comunque l'ambizione per una donna di volersi realizzare anche da un punto di vista professionale e imprenditoriale. Qual è in questo senso anche la sua opinione per cercare di ridurre magari questo gap e per fare in modo che anche in Italia come in altre parti d'Europa la donna possa esprimersi con maggior forza in questo senso? Sicuramente si deve partire da una formazione e quindi spingere anche molto sulla scuola che materie STEM che sono prettamente a indirizzo maschile devono essere coinvolte anche le giovani studenti e dare anche più forza e più slancio ma nella sicurezza della propria attività perché forse manca quella sicurezza per partire. È un gap che conferma, c'è anche della sua esperienza. Lei è un'imprenditizia del territorio che insomma è da anni che è attiva nel mercato. È un trend che riscontra anche lei questo? Sì. Questa difficoltà o comunque... Questa difficoltà perché non su tutti i settori c'è bisogno proprio dell'intraprendenza di donne intraprendenti. Da un lato un conto è fare la dipendente subordinata quindi avere un proprio orario di lavoro avere magari anche dei welfare aziendali particolari su cui su questo a nord-est ci sono tanti miglioramenti dall'altro è però fare l'imprenditrice vuol dire mettere anima e corpo nella propria impresa. Ma anche con il progetto pari sempre promosso dalla regione che stiamo partecipando come Confapi Donne a Venezia è proprio aiutare sia la consapevolezza del mondo dell'imprenditoria femminile ma anche proprio partire su certi presupposti che magari prima fare l'imprenditrice era togliere diciamo attività a quello che concerne il mondo femminile e quindi la famiglia cercare proprio di bilanciare questi due aspetti. Intelligenza artificiale delle piccole e medie imprese so che ne parlerete a fine mese a Portogruaro visto che tra l'altro lei fa anche parte del mondo di Confapi Portogruaro è più un'opportunità o magari può esserci anche qualche rischio e pericolo? No, è un'opportunità perché l'evento che faremo a fine mese è proprio per dare un piccolo assaggio sull'intelligenza artificiale ma proprio per capire come ottimizzare la produzione migliorare i processi ma soprattutto spingere nell'innovazione nelle aziende e come Atena Lux noi partecipiamo a fiere internazionali nel mondo della sanità e ho visto già da anni questa ricerca nell'innovazione proprio per, parlando del mondo degli ospedalieri o delle case di riposo è proprio la ricerca nell'innovazione sia nell'ottimizzazione e nella gestione ma anche nel monitoraggio del paziente Grazie Grazie a voi A Luigina Barbuglio per essere stata con noi